Cimitero monumentale di Arezzo, sono iniziati quelli che possiamo definire i giorni dell'omaggio ai cari, delle preghiere, dell'omaggio attraverso i fiori, i lumini e tutto quello che la tradizione sentimentale e anche religiosa impone proprio in questi giorni. La festività dei Santi per il primo novembre, la ricorrenza dei morti per il 2 novembre viene sempre anticipata quantomeno diversi giorni prima. In questo momento anche gli operai tecnici della Multiservizi sono al lavoro proprio per consentire una libertà di movimento grazie alla pulizia anche dei passaggi e dei marciapiedi interni e soprattutto anche la sicurezza. Questo è un punto che viene sempre ricordato, ci sono le telecamere, c'è comunque il controllo. Per quanto riguarda la viabilità sarà regolata a partire soprattutto da domani, quindi nei giorni caldi di 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre dalla Polizia Municipale. Insomma è il momento, dicevamo, che si ricorda chi non c'è più. Gli aretini sono già venuti anche in queste ore in numero piuttosto massiccio, ma è normale che nei giorni in cui si festeggia e si ricordano i Santi e i morti l'afflusso sarà maggiore. Dunque anche prudenza nel movimento e stretta osservanza alle regole della viabilità per evitare di incorrere in sanzioni.